La tradizione natalizia a Nicosia vede ogni anno in diverse chiese della città l'allestimento dei tradizionali presepi. Quest'anno presso la chiesa di Sant'Antonio Abate in via Frellitesta i ragazzi del centro giovanile e gli allievi del centro di formazione professionale ODA hanno allestito una mostra di presepi artigianali molto particolari. Visitando la chiesa possiamo notare un presepe classico ma molto curato nei particolari nei quali spiccono tra i tanti un con dei piccoli pesci veri le luci e l'atmosfera sono nell'insieme molto suggestive ma la vera particolarità di questa mostra sono i presepi realizzati con materiali non comuni rispetto a quelli tradizionali. Nella mostra possiamo ammirare quelli in lamina di alliumino anotizzato rame del maestro Santino Barbera ormai universalmente riconosciuto in tutta Italia e che in questo contesto espone due delle sue opere più famose. Accanto notiamo anche due presepi realizzati dagli allievi del centro di formazione professionale ODA il primo realizzato dal corso per impianti termoidraulici con materiali idraulici il secondo realizzato in due tempi con la lana da parte di ragazzi diversamente abili e successivamente dal corso operatore elettrico che hanno realizzato l'impianto delle luci. I ragazzi del centro giovanile hanno allestito un presepi in sacome di cartone a grandezza naturale e dei piccoli presepi in gesso che mettono in vendita ai visitatori. Il titolo della mostra è col tuo talento spacca il mondo ed è visitabile fino al 6 gennaio 2014 dalle ore 10 alle 12 e 30 e dalle 18 alle 21.